Ospedale di Pescara, sovraffollamento al pronto soccorso di Pietrantonio, il PD dice che a metà settembre partiranno i lavori. Sì, ieri ho avuto un incontro con la dirigenza dell'Asile di Pescara e mi è stata appunto confermata questa notizia che credo sia molto importante. A metà settembre partiranno i lavori finalmente per il nuovo pronto soccorso che sarà molto più ampio e molto più adeguato alle tantissime richieste che l'ospedale di Pescara, ma in particolare il pronto soccorso, ha da sempre. Chiaramente adesso stanno aumentando anche gli accessi perché se pensiamo che da Vasto a Giulianova è l'unico pronto soccorso attivo, quando è stato chiuso quello di Ortona, ci rendiamo conto quindi che gli accessi sono tantissimi. Il problema vero è che le persone che arrivano al pronto soccorso, anche quelle che potrebbero avere una risposta adeguata da altre strutture, da strutture di base, da medici di base, vanno tutti al pronto soccorso. È chiaro che tutto questo deve essere risolto, c'è questo grande impegno, entro un anno, quindi per la prossima estate dovrebbe essere ultimato il nuovo pronto soccorso e quindi la risposta ai cittadini, a tantissimi cittadini, sicuramente sarà molto più adeguata. È chiaro che la notizia, dieci ore al pronto soccorso, aspettare una visita è una cosa che va assolutamente risolto. C'è un grande impegno da parte dell'Asile di Pescara, del direttore generale e dalla parte sicuramente della regione, del presidente che su questo fronte è molto attivo. Il sindaco Alessandrini a volte dimentica che lui è il presidente del comitato ristretto dei sindaci, nonché è la massima autorità sanitaria locale e quindi dovrebbe fare di tutto, a volte anche essere più dinamico, urlare, sbattere i pugni perché il nostro nostro comio, il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara non può creare disservizi. Se la regione ha voluto portare avanti una legge di riordino e questa legge di riordino crea solo disservizi, il sindaco di Pescara si deve far sentire e non può essere sottomesso dal presidente della regione o dal direttore generale solo perché sono dello stesso partito.